Parliamo d'amore, o meglio, di Parlami d'amore, una produzione patrocinata dalla Puglia Film Commission. Qui con noi l'attrice Tiziana Gerbino, ben trovata. Salve a tutti voi, ben ritrovati. Tu sei parte integrante di questo progetto, ma di cosa si tratta nello specifico? Allora, sono quattro romanzi che appunto parlano d'amore, Le notti bianche di Dostoevsky, Cime tempestose di Emily Bront, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e Notre Dame de Paris di Victor Hugo. E tu che ruolo ricopri? Come è stato strutturato questo programma, questa docu-fiction? Allora, c'è una conduttrice che introduce appunto l'opera e quest'opera poi prende forma attraverso gli attori, quindi come in un film, infatti è stato bellissimo. È un esperimento perché la particolarità è quella di aver ambientato questi classici della letteratura in Puglia. Ah, quindi zone pugliesi, tipo? Allora, abbiamo girato a Polignano a mare, San Vito, infatti è bellissimo, le notti bianche che sono ambientate a San Pietroburgo sono state girate a Polignano a mare. e poi invece Orgoglio e pregiudizio a Cassano in una masseria a Cassano e Notre Dame de Paris, al posto di Notre Dame abbiamo la cattedrale di Altamura che non ha nulla da invidiare, bellissima. Quindi è stato dato un valore alla nostra terra. Praticamente abbiamo contestualizzato i grandi classici nella nostra terra, meraviglioso come progetto. Senti, ma il tuo ruolo da attrice? Io sono la protagonista, in Le notti bianche sono Nastenka, in Orgoglio e pregiudizio è Elisabeth, in Notre Dame invece no, ho fatto la conduzione, e poi ci mette in pestose che dobbiamo ancora girare. Senti, ma a quale ruolo ti sei sentita più vicina? So che è una domanda retorica da fare un'attrice, però voglio osare, dato che si parla d'amore. Elisabeth, di Orgoglio e pregiudizio sicuramente. Quindi tu soffri un po' di pregiudizi quando ti approcci alla sfera sentimentale? Sì. E sei orgogliosa? Molto. Senti, fammi capire un po', ma secondo te questi grandi classici sono poi così distanti dall'attualità? Assolutamente no. Poi soprattutto quando si parla d'amore ci si ritrova sempre. E il tuo percorso artistico, un bilancio di quest'anno d'attività d'attrice qui a Bari? Molto positivo, infatti sono speranzosa perché vedo che Bari soprattutto ora con l'apertura del Cineporto e quindi con la Pulea Film Commission che sta facendo veramente tanto, dà sicuramente molta speranza ai giovani attori. Quali ruoli hai ricoperto durante quest'anno? Quest'anno ho lavorato parecchio, io faccio parte della compagnia La Differance, una compagnia storica barese, e abbiamo portato La Tempesta al Piccini a gennaio, poi sono stata con Apparenze alla Vallisa, un ruolo lì, ho ricoperto un ruolo molto importante, è stato bellissimo, alla Vallisa con la regia di Francesco Carrassi, con Lorenzo Darmento, Fabio Giacobbe, sì, è stato un bel lavoro. Senti, pensi mai a fuggire dal capoluogo pugliese per continuare altrove l'attività d'attrice oppure sei contro la fuga dei cervelli e dei talenti nostrani? Sono contro, infatti io sono stata a Roma quattro anni, ho vissuto, dopo essermi laureata in legge a Bari, ho fatto un percorso al contrario, mi sono trasferita a Roma dove mi sono diplomata alla scuola di cinema e alla scuola di teatro, il teatro azione, e poi quando si è trattato di cominciare a lavorare ho deciso di ritornare nel mio paese, di cominciare insomma da qui, e devo dire che la realtà per fortuna si sta evolvendo in maniera positiva. Solo teatro oppure anche il cinema? Il mio sogno è il cinema, infatti sì, ho fatto diversi cortometraggi, però non arriva ancora l'occasione grande. La consacrazione? No, non ancora purtroppo, ahimè. Però incrociamo le dita per te, personalmente sono felice che un talento nostrano rimanga a casa nostra, quindi in bocca al lupo Tiziana. Crepi, grazie. Al prossimo ospite con Valentina. Grazie a tutti.